Grafico, Presidente, solo per spiegare una cosa. Noi con questa mozione non stiamo accusando nessuno. Stiamo semplicemente chiedendo a questo Parlamento di fare un atto di umiltà, perché non crediamo più che siate in grado di dividere i buoni dai cattivi e di individuare i problemi all'interno di questa realtà. Se non ci fosse stata mafia capitale, collega, lei nel suo discorso mi avrebbe portato come caso virtuoso la cooperativa 29 giugno di Buzzi. E' questo il problema. Non sappiamo più che cosa si annida in questo sistema. E l'unica cosa che chiediamo è di accertare veramente, senza pregiudizi politici, cosa stia accadendo in queste realtà. Grazie.